Io ho comprato il videocorso dello chef Andrea Di Giglio e mi sono rimasta veramente molto contenta e soprattutto perché comunque già lo conoscevo perché avevo comprato un paio dei suoi libri su Amazon e già mi erano piaciuti molto. Quindi diciamo che mi sono voluta affidare, buttare e comprare appunto il suo videocorso e devo dire che sono rimasta veramente stupita anche perché oltre a imparare un sacco di ricette di pasticceria, comunque anche cose che non avevo la mia idea di come fare, ad esempio io tipo il macaron o il panettone dato che siamo sotto il periodo natalizio. E anche come gestire il lievito madre che comunque è sempre utile, che è un processo complicato e sinceramente non sapevo dove mettere le mani. E inoltre nel pacchetto sono compresi anche tutti i suoi libri, quindi anche il libro del benessere che è molto interessante e sicuramente non lo finirò tutto però è veramente bello. E nulla, lo consiglio, per quanto riguarda il prezzo ovviamente per tutte le cose che precedentemente ho detto è adeguato. E tutto spiegato in modo molto tecnico, fatto molto bene e per quelli appassionati come me anche alle prime armi che non sanno come iniziare ma vorrebbero buttarsi lo consiglio vivamente.